Samuel Stern numero 21, il demone che cadde sulla terra, o come direbbe l'agente Starfish, tutti i nodi iniziano a venire al pettine. Wabalabadabdabe, bentornati, sono Mamamazzo, bentornati nella rubrica Samuel Stern. Si entra finalmente nel vivo, come gli stessi autori ci hanno informato il mese scorso e questo mese, da questo numero per quattro numeri, compreso questo, quindi questo più altri tre numeri, ci sarà un ciclo di storie che concluderanno il secondo anno editoriale del nostro caro Rosso di Edimburgo. Prima di cominciare, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, condividete il video con tutte le persone che sono possedute da un angelo o da un diavolo e commentate qui sotto con quello che venne parso di questo numero, di questo video e di quello che pensate succederà alla fine di questo ciclo di quattro storie. Questo numero è del trittico Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filla d'Oro e Marco Savegnago e i disegni sono di Luigi Zagaria. Questo numero è davvero fatto per i fan di Samuel Stern, si può leggere tranquillamente se preso in edicola come primo numero, però ti fa proprio venire voglia di andare a recuperare quello che si è perso se avete perso dei numeri di Samuel Stern. Se invece lo leggete come me dal numero 1 potete apprezzare il fatto che finalmente qua si vada in quello che è un finale di stagione, un inizio di una guerra che ci è stata appena accennata finora. Questo numero va a toccare numeri passati di Samuel Stern e li mescola insieme facendo qualcosa di bello. Ci mostrano un po' il retroscena di questo universo, anche un pochino, mettono un po' di pepe nel passato di Samuel Stern, anche meglio rispetto a come è stato fatto, secondo me, nel processo Stern, dove tutto pareva essersi svolto in maniera molto molto terrena. Pare che qua si stia tornando sui propri passi, pare che forse Samuel Stern non ricorda molto bene cosa è successo nel suo passato e pare che abbia una possibilità di finalmente fare chiarezza. Mi piace che in questo numero ci siano un po' quasi tutti, anche se è una storia incentrata tipicamente su Samuel Stern, comunque riusciamo a vedere Angus all'inizio della storia, in una parte piccolissima ma che mi è piaciuta un sacco, cioè proprio il classico burbero libraio, come dovrebbe essere Angus. Abbiamo visto pochissimo Duncan ma mi è piaciuto che abbiano giustificato la sua assenza. Grande assente ormai da un po' è Penny che mi piacerebbe vedere più spesso, anche alla luce del fatto che qua c'è un personaggio che graficamente un po' le somiglia, questa Sherice che è la figlia della signora che viene a trovare Samuel Stern in libreria per chiedere il suo aiuto. Mi piacerebbe vedere un po' più di Penny in futuro, chissà che non saremo accontentati. Tornano anche altri personaggi iconici che abbiamo visto nei numeri scorsi, mi riferisco all'agente Gillian, o Gillian, fatemi sapere come si pronuncia, che è uno dei tanti amabili figli di puttana che abbiamo visto nel corso di Samuel Stern. Gillian è a capo di un'agenzia segreta chiamata Singularity che si occupa appunto di demoni in un modo molto militaresco e per nulla empatico, per nulla psicologico come fa Samuel, quindi cerca di isolare il problema, cerca di tenere a bada la nostra realtà in tutti i modi, anche venendo a patto con i demoni stessi. Diametralmente opposto al modus operandi di Singularity ci sono queste persone come Isobel, che è un personaggio che abbiamo visto disfuggita nel numero 4, se non sbaglio, l'isola dei perduti dove ha fatto un po' la parte del Deus Ex Machina, per poi sparire per diversi numeri, più di quanti avrei voluto, francamente temevo quasi che si fossero dimenticati di lei, invece sono molto felice che l'abbiano reintrodotta e sono anche molto felice che l'abbiano introdotta di nuovo in un albo dove è presente anche l'agenzia, proprio per vedere queste due fazioni che si scontrano. Il demone che cadde sulla terra è un titolo che non lascia spazio all'immaginazione, potete ben pensare a quello che succede, semplicemente c'è un demone sulla terra e tutti se ne vogliono occupare, perché si sa, in Samuel Stern è molto molto raro che un demone una volta uscito dal corpo del suo ospite, quindi in questo caso dall'essere umano che lo aveva dentro di sé, è molto improbabile che sopravviva, solitamente evapora e va all'Inferno dei Demoni, Inferno dei Demoni che abbiamo conosciuto con il nome di Legione. Per scoprire un po' di più su tutto questo universo dovete leggere il numero 3 dal titolo appunto Legione, anche perché in questo numero viene citato Ringo, il demone che abbiamo visto proprio nel numero 3. Ovviamente qua non c'è lo stesso demone, però in qualche modo tutti i demoni sono interconnessi, riescono a comunicare tra loro telepaticamente, quindi anche questo demone, pur essendo diciamo appena nato nel nostro mondo, nel nostro piano, terreno, riesce in qualche modo a carpire le informazioni per poter comunicare a Samuel quello che sta succedendo. Questo demone viene soprannominato George dai membri dell'agenzia e siamo già al secondo Beatles. Pensavate che non l'avevamo notato, invece l'abbiamo fatto. In un numero come questo, dove non c'è appunto una chiusura di una trama, ma si aprono solamente ulteriori porte verso i numeri successivi, solitamente non c'è una vera e propria morale, non c'è un vero e proprio messaggio che viene dato singolarmente nel numero. Quindi io non ho trovato particolari chiavi di lettura come faccio di solito, però è chiaro che si sta aprendo un più ampio discorso sull'eterna lotta tra le forze del bene e le forze del male, come per carità abbiamo già visto anche in altri ambiti, specialmente in epoca moderna, laddove le forze del bene sono spesso rappresentate come delle forze integerrime che non lasciano spazio nemmeno a un pochino di grigio, non lasciano spazio nemmeno a un pochino di, paradossalmente, di pietà cristiana, mentre le forze demoniache spesso non sono così malvagie, ma sono appunto le forze del grigiore, del grigiume, le forze dove c'è talmente tanto grigio che ci si può quasi ragionare. In una narrazione dove si ribaltano i ruoli e quasi i cattivi sono i buoni e i buoni sono cattivi. Qua vediamo appunto questo demone che è trattato appunto come un povero diavolo, come un povero disgraziato, come un freak su cui tutti vogliono sperimentare. E vediamo invece quelli che sono palesemente degli esseri umani posseduti da degli angeli, essere completamente integrati con la forza angelica che li possiede, a differenza dei demoni che invece non instaurano un rapporto così intrinseco, ma abbiamo due personalità distinte. Qua vediamo i posseduti dagli angeli che fondamentalmente ragionano insieme agli angeli e li vediamo come non hanno proprio spazio per il dubbio, non hanno spazio per ragionare con quello che secondo loro è il nemico, non hanno spazio per andare contro a quello che è un loro principio. Molto più della ragione, molto più del buonsenso, cosa che spesso vediamo anche nella nostra realtà quando si ha a che fare con dei fanatici, dei fondamentalisti, ma vale per il discorso religioso, sia della nostra religione che di altre, ma vale anche nostra religione nel senso che l'Italia è a maggioranza un paese cattolico, poi lo so che siamo un paese laico, vale sia per la religione cristiana che per altre religioni, ma soprattutto vale anche per tutti i vari idoli, se dobbiamo usare un termine biblico, moderni, quindi chi ha la religione della Marvel, non si può ragionare se diventa un fanatico, chi ha la religione della DC Comics, chi ha la religione dei primi cento di Dilan Dog, insomma quando c'è di mezzo il fanatismo, c'è di mezzo il bigottismo, non c'è spazio per il dialogo e questi due personaggi rappresentano un po' questa cosa, la mia verità è l'unica verità, non c'è spazio per altro, non c'è spazio per il dialogo, c'è solo spazio per il dialogo fin tanto che tu ascolti quello che io ho da dire. Mi piace come l'hanno rappresentato, non è ovviamente una cosa nuova, nel senso è già negli ultimi vent'anni, dagli anni 2000 in poi, che si smonta, si scardina, il potere della luce dal suo piedistallo e lo si mette a patti anche con i difetti appunto del potere della luce, lo si mette a confronto invece con i pregi che ci possono essere in qualche demonietto che è caduto sulla terra. Mi piace come lo trattano e voglio proprio vedere dove vanno a finire. La bellezza di Samuel Stern, rispetto per esempio alla distinta concorrenza di Laniata, è che le storie ruotano tutte attorno alla sua vita, quindi quello che mi aspetto di vedere nei prossimi tre numeri è il fatto che non solo ci sarà una battaglia tra appunto le forze del bene e le forze del male, ma che in tutto questo sarà legato anche la storia personale di Samuel Stern che verrà magari non spiegata, comunque mostrata un po' di più, magari verranno ribaltate alcune cose che pensavamo di sapere e ci verrà finalmente mostrata la verità su quello che è successo a Samuel Stern, sull'origine dei suoi poteri e su come gestirà il futuro della propria vita. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa storia, se vi è cresciuto un po' di hype per quello che sarà, per la conclusione diciamo di questo secondo anno di vita di Samuel Stern oppure se preferite le storie singole scrivetemelo qua sotto in descrizione così magari nasce una bella chiacchierata. Io spero di parlare più spesso di Samuel Stern in futuro, spero che ci siano le occasioni, fatemi sapere se anche voi vorreste magari che ci siano più appuntamenti riguardo a Samuel Stern, magari delle live, scrivetemelo qua sotto. Io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui con l'inchino e con l'embuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.